Di Marco che serve Jankto, tutto solo davanti all'area di rigore, la conclusione è il gol dell'Ascoli! Ascoli in vantaggio con Jakub Jankto! 2-1 per il Pescara, il croce di Chiorillo e poi la palla è il gol! Il palazzo dell'Ascoli con il Gigi Chiorgi! Un tiro da fuori aria, un lob perfetto e preciso sulla ripartenza del Pescara e palla in rete.